Grazie, insomma è stata una mattinata, devo dire, molto importante, molto produttiva, con tantissimi suggerimenti, con tantissime idee, per cui insomma direi non c'era modo migliore per cominciare questo nostro anno accademico di RCS Academy. Per quanto mi riguarda io ci tenevo a soffermarmi per un secondo sul fatto che questa emergenza sanitaria dell'ultimo semestre, diciamo da marzo in poi, ha comportato e ha generato una trasformazione digitale ancora più forte di quanto non fosse già in essere. E tant'è che anche noi come RCS, che abbiamo molto investito appunto sul digitale, abbiamo ottenuto risultati anche molto importanti. Ricordo per esempio il mese di marzo, che è stato un mese evidentemente molto importante dal punto di vista anche della sete di informazioni da parte della gente, del pubblico, abbiamo raggiunto come Corriere della Sera qualcosa come 31 milioni di utenti unici nel mese, che si sono però mantenuti perché per esempio nel mese di luglio eravamo ancora a 25 milioni, con un numero di utenti unici giorno che sfiorava i 4 milioni, quindi insomma numeri molto importanti. E poi un'altra cosa molto importante, siamo riusciti a crescere con gli abbonamenti digitali dai 170 mila di inizio anno, che era un risultato diciamo di 4 anni di attività, da quando noi erigemmo il paywall, per cui era fondamentale dopo un certo numero di articoli abbonarsi al Corriere.it. Quindi dai 170 mila dei 4 anni di attività precedente siamo balzati in pochi mesi, in 4 mesi, a 300 mila abbonamenti digitali. E poi anche la pubblicità è andata molto bene perché il Corriere ha ottenuto un risultato importante, un incremento addirittura del 30% dell'advertising perché appunto le aziende hanno ovviamente focalizzato molto gli investimenti diciamo nel settore digitale. Noi stiamo investendo moltissimo, come ho detto, abbiamo anche assunto moltissima gente, una cosa che non accade molto spesso in questo momento in questo settore. Noi siamo riusciti ad assumere tra Corriere, Gazzetta e i nostri periodici, prevalentemente giovani, qualcosa come 57 persone. 38 al Corriere, 14 alla Gazzetta e 5 ai periodici. Quindi insomma c'è un'attività come dire molto forte anche di ricambio generazionale, di inserimento di giovani che hanno evidentemente bisogno e voglia di avere un'opportunità perché è fondamentale dare l'opportunità ai giovani. E poi stiamo investendo moltissimo ovviamente nella formazione di queste persone e in generale dei nostri giornalisti e molto anche nella tecnologia perché ovviamente per riuscire ad ottenere risultati nel mondo digitale è molto importante investire in tecnologia, sapere quelle che sono le abitudini dei tuoi abbonati digitali, sapere cosa piace loro, costantemente essere in contatto con loro fornendo informazioni, fornendo newsletter, come dire avendo una cura e un'attenzione a loro che deve essere totale tutti i giorni, tutti i minuti e durante tutta la giornata. A volte anzi ci sono persone che io conosco che mi dicono state quasi esagerando, non ho un po' troppe notifiche. A parentesi, volevo dirvi che ho fatto ieri e ho avuto stamattina il risultato del secondo tampone, è negativo. Quindi potete stare tranquilli perché ho avuto la malaugurata esperienza di essere in Lega quel giorno in cui anche l'amico De Laurenti si era in Lega e poi ha scoperto di avere il Covid, quindi ho fatto il tampone subito il giovedì, negativo. L'ho rifatto ieri, negativo. Credo di essere a questo punto, comunque stiamo lontani, ma in ogni caso state tranquilli, non ci sono problemi. Ecco, venendo invece poi all'Academy che evidentemente è il motivo per cui siamo qua. Beh, noi stiamo, e avete visto, abbiamo investito e stiamo investendo in maniera importante perché crediamo moltissimo nel fatto che la formazione sia uno strumento fondamentale in un momento come questo, in un momento in cui la società è in grandissima evoluzione, in rapidissima evoluzione e quindi quello che studi a scuola, all'università, in un master, magari due anni dopo, non dico che sia obsoleto, ma certamente va aggiornato. E quindi è fondamentale per tutti quanti essere in un costante aggiornamento. Questo vale per i giovani che fanno i nostri master full-time, part-time, online, di RCS Academy, ma è fondamentale per tutti noi. L'aggiornamento costante e continuo è fondamentale, è un investimento importantissimo, importantissimo per noi come persone, importantissimo per le nostre aziende, importantissimo per la società tutta. E noi come RCS abbiamo la fortuna, l'opportunità di avere contenuti di qualità, tanti contenuti di qualità, non soltanto nel giornalismo, nello sport, ma anche nella moda, nel food, in tutta una serie di attività dove evidentemente poi sviluppiamo i nostri master di ogni genere e tipo. In questo momento ovviamente abbiamo avuto, per lo meno per quel che riguarda il semestre precedente, alcuni master non si potevano fare, diciamo, in aula, ma abbiamo sviluppato moltissimo quelli che sono i master online e moltissima gente si è iscritta, ha avuto dei risultati anche molto interessanti e ha partecipato ai nostri master online con dei buonissimi risultati. Io poi ringrazio moltissimo anche le aziende partner nostre, che sono tante, a partire da Google, so che c'era prima Vaccarono, quindi ringrazio Google, ringrazio molto Mastercard, avete sentito poco fa Centemero, ringrazio molto Deutsche Bank, avete sentito Parazzini, ringrazio, insomma, ringrazio Snam, c'era Alvera, ringrazio A2A con Mazzoncini, poi spero che anche MPS abbia la voglia, abbia il piacere di diventare nostro partner, così come anche Microsoft, ma comunque sia, certamente i nostri master di RCS Academy stanno sviluppando e crescendo bene grazie anche all'appoggio e al sostegno dei nostri partner, per cui veramente do un caloroso ringraziamento perché questa attività, credo che sia un'attività positiva per noi, ma positiva anche un po' per tutti coloro i quali partecipano e quindi anche per il Paese, in senso generale. Le cose vanno bene, ho saputo che i numeri sono molto buoni, siamo arrivati ad un incremento dei master full time del 30%, quindi, insomma, direi numeri molto positivi. I ragazzi, i giovani, ma le loro famiglie in particolare, che poi li finanziano, credono nella formazione, sono lungimiranti e quindi evidentemente hanno la voglia di partecipare a questi nostri master, cui seguono sempre degli stage, quindi l'opportunità di sperimentare direttamente nelle aziende quello che hanno imparato, diciamo, durante questi corsi. Io personalmente ho fatto alcuni corsi, non direttamente un master, cosa che avrei molto voluto, poi la mia vita mi ha portato ad avere esperienze diverse. Avrei molto voluto farlo, purtroppo non ce l'ho fatta, però ho fatto dei corsi. Per esempio, mi ricordo un corso bellissimo per come parlare in pubblico che mi è molto servito, un corso molto bello per come vendere, per come diventare un bravo venditore, perché allora la mia attività era quella, che anche questo era il famoso corso Kaser, che anche quello mi è molto servito. Quindi insomma, il mio ricordo delle attività di formazione che ho fatto è un ricordo assolutamente molto positivo ed è sempre un momento di grande arricchimento per tutti quanti e per me lo è stato certamente. Io non vado oltre, vi ringrazio moltissimo di aver seguito questa nostra giornata inaugurale del nostro anno accademico, appunto, di RCS Academy. Vi faccio un in bocca al lupo per la vostra attività e dico ai giovani che questo è un momento comunque sia difficile, ma in tutti i momenti di crisi ci sono delle grandi opportunità. L'importante è saperle cogliere, l'importante è raddoppiare gli sforzi, perché in momenti di difficoltà è fondamentale raddoppiare gli sforzi e credo che poi saremo certamente premiati. Un ringraziamento importante va anche a tutti coloro i quali lavorano in RCS Academy. Abbiamo persone veramente di primissima qualità che stanno facendo un lavoro importantissimo. Li ringrazio moltissimo perché stanno dando dei risultati importanti a noi come aziende e a tutti i partecipanti. Grazie di cuore, grazie ancora. Grazie.